Aveva percorso a piedi la Provenza, da giovane, certo poteva camminare da Roma alle Alpi italiane, malgrado la distanza. Ma il viaggio era improvvisato, ricco di impulsività, si legga, irriducibile indifferenza per il dolore che poteva arrecare a lui, o ad altri, e se lo fece a piedi, saltellando, alle volte, smettendo la propria età, era quasi sessantenne, con gli abiti stracciati, ma del resto tutti avevano abiti stracciati. C'era la guerra, e l'Italia non se la passava bene. L'esito era dubbio. Il nuovo governo s'era insediato a Salò, sulle sponde del lago di Garda. Lui aveva una mappa, ma una mappa non era il territorio, pensò. Traduzione a cura di Angela D'Ambra